Noi siamo già tutto quello cui aspiriamo. Noi siamo l'assoluto che si manifesta attraverso il molteplice. Noi siamo un limitarci. Per le guide noi siamo un noi incompiuto. Vi esorto a dimenticare il vostro nome, il vostro cognome e tutto ciò che c'è dietro e a considerarvi frammenti dell'assoluto scesi in terra per fare alcune esperienze. Non giudicare significa non opporre ostacoli al rinnovamento. La caduta graduale delle limitazioni corrisponde ad una sempre maggiore apertura verso ciò che si ritiene non io. L'odio è il sangue dell'io che è stato ferito, ma l'io non è la realtà. Di oggettivo non c'è che Dio considerato nella sua unità. Tutta l'opinione pubblica appartiene alla mente e non alla coscienza.